Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Cards to your friends and family this holiday season. In questo venerdì senza particolare hype, una menzione la facciamo a articolo 31 con Comacose, senza dubbio. Big Up for Jaime che sta continuando a fare il suo percorso che spero lo porterà veramente in alto. Sì, c'è l'uscita dei The Killers che sono un gruppo che adoro, è fondamentalmente questo. Non ho trovato qualcosa che mi interessasse particolarmente, ovviamente non mi esprimo su Arti5 e Rondo da Sosa. Allora ho pensato che magari si poteva approfittare di parlare di un argomento che mi ha un po' incuriosito e che secondo me merita un approfondimento. Daddy Yankee è il re, il re, perché Daddy Yankee è il fottuto re come artista e come produttore di tutto il suo mondo e derivati, perché lui ha aperto letteralmente un mercato e ha deciso di dire basta alla musica. Ce l'aveva detto, sarebbe stato l'ultimo disco e l'ha fatto, poi qualche singolo, poi l'ultimo tour. Dice che adesso chiude e che si dedica completamente a Gesù Cristo e all'amore, alla fede ed è una cosa veramente spiazzante per la società una notizia del genere, delle dichiarazioni del genere. Cioè forse non si dà veramente peso a Daddy Yankee perché sicuramente il suo non è di certo un genere intellettualoide, ma in verità vi dico che è un genere che richiede tanta testa, tanto cuore e lui è uno di quelli che ha maggiore cervello proprio nell'industria, l'ha dimostrato in tantissimi casi semplicemente non ha bisogno di ostentarlo, di raccontarlo a parole come fanno i fenomeni di sto cazzo gli intellettualoidi che devono sempre stare a dare nozioni di vita che poi portano sempre a una repressione e non ad un'espressione, invece è bello sentire un artista che parla di spiritualità e che evidentemente ha capito che questi due mondi non possono combaciare se lui non attua a un distanziamento netto, ma ovviamente è una cosa più mentale perché lui è Daddy Yankee con la musica ci avrà sempre a che fare, vuoi non vuoi, anche solo per spartire le royalties della carriera però evidentemente c'è proprio un discorso pratico di vita, cioè il tour, il preparare il progetto che hai delle responsabilità con altre persone ed è un qualcosa che ti toglie tanto e ti fa vivere volente o non volente in un mondo che ha delle regole differenti da quelle dell'anima ed evidentemente questa cosa è sentita dal buon Dendi Yankee che tra parentesi ce lo dice cioè io ho bisogno di cose che non riescono a darmi queste cose terrene il successo arriva fino a un certo punto, i soldi arrivano fino a un certo punto, tutto quanto ma ciò di cui ho bisogno è amare Dio, Gesù Cristo, la mia famiglia cioè i valori classici dell'uomo, recenti, della storia contemporanea svalutati dai più, svalutati da tutti ma è bellissimo sentire queste parole da un artista di tale caratura mi domando perché non ci soffermiamo visto che ogni giorno ci soffermiamo su tante cose, mille notizie ma perché Dendi Yankee che dichiara una cosa del genere non viene passata nei telegiornali italiani ad esempio perché comunque parliamo di un artista di altissimo livello di caratura internazionale bisognerebbe riportare perlomeno il fatto e le motivazioni perché non è una motivazione a caso poi tornerà sicuramente, magari sì, magari no magari con la musica dovrà affrontare nuove cose però è bello, cioè è una vera rivoluzione un artista che di punto in bianco comunque non è che ha 60 anni però dice stop, mi devo dedicare alla mia spiritualità alla mia salute interiore, dell'anima e comunque insomma non si può non omaggiare la grandezza di un personaggio e io vi invito a vedere la serie su Nicky Jam e il Ganador su Netflix perché già lì comunque si percepisce quanto era massiccio Dendi Yankee nonostante non si parli di lui insomma, cioè è proprio un grande personaggio con grandi valori ed è sempre stato un grande uomo lui era uno di quelli che comunque quando si faceva musica se magari qualche artista era troppo stravagante, un po' troppo drogato diceva no, la musica si fa con la testa, con serietà senza che stiamo a parlare di cazzate è uno che ha portato i valori in mezzo alla strada quella più degradante, non quella italiana che comunque male che va ti salvi no, l'ha fatto veramente come persona, come produttore, come musicista e adesso ci lascia questo messaggio straziante io da comunque persona battezzata, da cattolico lo ringrazio perché oggi non è facile portare un messaggio tanto forte se non facendo un'azione tanto forte come ad esempio abbandonare la musica